Conferenza di fine anno del senatore Michele Fina a tre livelli, attività in Senato, elezioni regionali e politica comunali. Fondamentale per il senatore dei democratici produrre per i cittadini un bilancio dell'attività svolta in modo periodico, cosa che aveva già fatto un anno dall'arrivo in Senato. Fina si è concentrato sulla legge di bilancio nazionale, una legge blindata che non ha reso possibile nessun movimento, una manovra insufficiente e ha ricordato i suoi emendamenti bocciati come superbonus, tribunale minore, dimensionamento scolastico, provvedimento che riguarda risarcimento per le vittime del sisma. Questa conferenza stampa in particolare ci concentriamo sui provvedimenti che hanno riguardato la legge di bilancio, sui miei emendamenti, purtroppo come sapete una legge di bilancio che è stata blindata, gli stessi parlamentari di maggioranza sono stati impediti nel presentare proprie proposte e proprie emendamenti. Io l'ho fatto naturalmente a partire dal provvedimento a sostegno delle vittime del terremoto, superbonus, il dimensionamento scolastico, i tribunali, su tutto naturalmente c'è stata una bocciatura da parte della maggioranza che ha fatto una manovra striminzita che non parla ai problemi del Paese. Ma il senatore del Partito Democratico ha parlato pure delle eminenti elezioni regionali di marzo. Questa naturalmente è anche l'occasione per me di commentare il sondaggio positivo che dà un testa a testa, una partita aperta per le prossime elezioni regionali tra Luciano D'Amico e Marsilio. Credo che una delle ragioni sia il grave fallimento, soprattutto nella sanità nella nostra regione, lunghissime liste d'attesa, mobilità passiva, cioè persone che devono andarsi a curare fuori, ma questo è legato anche alle mancate scelte fatte a livello nazionale. E' un riferimento anche alla legge di bilancio regionale che per lui si concentra sulla distribuzione di fondi a pioggia che dà il segno di una politica che a livello della regione Abruzzo è fatta come a livello nazionale, cosa emblematica alla sanità. E poi un attacco finale sferrato alla politica locale, al Comune dell'Aquila dopo la relazione dell'ANAC, nelle prossime ore presenterà un'interrogazione parlamentare. Sono inquietanti le notizie della relazione dell'ANAC sul Comune dell'Aquila che indicano un sistema, una gestione abbastanza singolare da approfondire. Su questo farò un'interrogazione parlamentare perché c'è bisogno anche di studiare a fondo, soprattutto qui che è stata la prima città vinta da un sindaco di Fratelli d'Italia, seguita poi dalla regione, qual è il meccanismo, il sistema di potere, le caratteristiche di questo sistema di potere alla quale noi vogliamo contrapporci con una regione più trasparente e anche una città più corretta anche nella gestione delle risorse pubbliche.